ciao amico di tiktok stavo leggendo un po di messaggi ho visto delle diverse risate ma come mi trovate? simpatico? soprattutto anche per il nemico speriamo che non mi piaccia perché è un nemico veramente cattivo forse che figuraccio sono in diretta ho fatto la figuraccia oh vabbè io essere tornato in vita io spacco faccia io ora te mentre tu leggi i messaggi io adesso arrivo di suo piatto adesso strangola te e tu guardi il computer adesso mi avvicina questo no aspetta 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 puzza puzza terribile questo non essere uomo questo essere puzzolente e questo è perché mi sei venuto a violare la mia io posso spiegare io posso spiegare tutto incidente stato